Consiglio provinciale diviso a metà, appello a lavorare per il bene comune Oltre 2 milioni per potenziare la videosorveglianza delle strutture sanitarie marchigiane Centro Benelli sgretolato dalle infiltrazioni, le comune prepara interventi di manutenzione Pergola apre la stagione delle fiere del tartufo Con Biosalus Urbino torna ad essere capitale del biologico e del benessere olistico Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento serale con l'informazione di Rossini News Il nostro primo telegiornale di questo mese di ottobre, martedì 1 di ottobre Che vede aprirsi il notiziario con la politica E in particolare con un approfondimento sul risponso delle elezioni provinciali Che hanno visto ieri le elezioni di sei consiglieri per il centrodestra e altrettanti per il centrosinistra Oggi abbiamo intervistato un altro dei consiglieri eletti, ovvero il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli Che lancia un appello a superare le divergenze politiche per lavorare per il bene comune Le elezioni delle consiglie provinciali hanno dato un risponso inedito Dividendo l'assise con sei consiglieri per il centrosinistra e altrettanti per il centrodestra Quest'ultimo rivendica i 7.000 voti in più ottenuti alle urne Che creano un vantaggio però non sufficiente a svoltare con un settimo consigliere Quel vantaggio che invece si costruisce il centrosinistra con il voto del presidente Paolini Che restava comunque in carica è strano a questa tornata elettorale Una situazione inedita in cui a detta del rieletto Palmiro Ucchielli Occorrerà un lavoro di condivisione di intenti che superi le contrapposizioni politiche Io penso che si poteva evitare un tentativo di strafare da parte del centrodestra Sulla provincia di Piesa Urbino ma anche su quella di Ancona Le province oggi vivono un momento particolare e bisognerebbe lavorare insieme Infatti l'elettorato che è molto intelligente e cosa ha fatto? 6 a 6 parla al centro e col presidente quindi si mantiene la maggioranza il centrosinistra Mi pare un boomerang dal punto di vista del centrodestra Sono un po' dispiaciuto che il collega di Urbino e il collega di Caglia non sono stati eletti Però bisogna lavorare insieme E lavorare insieme significa avere un rispetto reciproco Collaborare nelle Marche con la regione, con la provincia Io sono stato eletto recentemente, riconfermato presidente dell'Unione dei Comuni Che è la più grande Unione dei Comuni delle Marche Che ha portato a casa grazie a un lavoro di rapporti di collaborazione con la regione 11 milioni di euro che ne pesero, tanto meno Vallefoglia avrebbe mai avuto Se non ci fosse stata l'Unione dei Comuni Con la regione cercheremo di lavorare su altri progetti Penso al contratto di fiume che riguarda tutta la vallata Dove ci sono beni da recuperare come la storia delle vecchie chiese antiche Come il sistema dei calanchi da fare i rimboschimenti Tante cose da lavorare insieme Evitando le polemiche fondamentalmente la gente pensa che bisogna lavorare per il bene comune Quindi credo che il nuovo Consiglio Provinciale Dove il presidente Paolini ha una maggioranza, 7 consiglieri su 13 Però dovrà lavorare insieme anche con gli altri 6 consiglieri Del resto fondamentalmente sono quasi tutti i sindaci I sindaci sono di tutti, rappresentano la comunità La regione Marche ha deliberato un investimento di 2.200.000 euro Per potenziare gli impianti di video sorveglianza Delle realtà sanitarie e socioassistenziali pubbliche marchigiane Per il governatore Acquaroli e l'assessore Francesco Baldelli Si tratta di uno stanziamento che punta alla sicurezza degli operatori sanitari E a quella degli ospiti delle strutture 46 gli interventi previsti in tutta la regione Marche A Pesor si interverrà nei centri diurni Gabbiano, Mosaico, Pegaso Nell'RSA di Galantara, Fano, Mondavio, Monbaroccio, Mondolfo, Urbani e Sant'Angelo Invado E negli ospedali di comunità di Fossombrone e Cagli E restando in tema di sanità è stata rinviata al prossimo 9 di ottobre La prima conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria territoriale di Pesor Urbino Inizialmente caledarezzata per la giornata odierna presso l'ospedale di Muraglia A causa di una serie di indisponibilità viene dunque rinviata l'istituzione di un organo di rappresentanza Volto a coordinare le azioni e le direttive sanitarie sul territorio Intanto però la sanità pesarese è stata al centro del consiglio regionale odierno Con l'assessore Filippo Saltamartini Che ha confermato come non ci sarà nessuno smantellamento del centro salute mentale di Pesoro Che continua a essere garantito da sette medici psichiatri E c'è l'intenzione di potenziarlo con nuove assunzioni Dopo i gravi problemi di infiltrazioni d'acqua al campus scolastico di Pesoro Un'analoga emergenza si sta palesando al centro direzionale Benelli Il cui piazzale è stato transennato per motivi di sicurezza Ora si studia un piano di manutenzioni radicali Dopo l'effetto cascata che sistematicamente si crea ad ogni pioggia Lungo la colonna portante del centro direzionale Benelli Sembrano cominciare a sgretolarsi anche le travi in legno portanti del vecchio complesso edilizio Compreso fra via Mameli e via Delmonico Cedimenti causati dagli accumuli di acqua piovana che faticano a defluire E che hanno portato ieri i vigili del fuoco a monitorare la situazione Su indicazione degli stessi amministratori di condominio Il risultato è stato il transennamento dell'intero piazzale centrale del centro direzionale Benelli Per motivi di sicurezza Il complesso edilizio ha ormai mezzo secolo di vita e una quindicina d'anni fa fu sottoposta ad una riqualificazione Che ora necessita di un nuovo intervento per quanto riguarda la manutenzione della tettoia che spetta al comune Questa mattina il sindaco Biancani assieme all'assessora con delega alle manutenzioni Mila della Dora Ha fatto un sopralluogo con alcuni tecnici e con le amministratrici del condominio Marica e Patrizia Vagnini E' stata portata sul posto una piattaforma con la quale un ingegnere specializzato ha potuto constatare da vicino Lo stato attuale di una delle quattro travi che ha ricevuto un eccedimento parziale Il piazzale dunque rimarrà transennato e chiuso al transito fino alla messa in sicurezza Contestualmente è stata anche chiamata una ditta specializzata nei lavori in quota Per svolgere la pulizia delle tubazioni necessarie alla raccolta delle acque Che nel caso del centro Benelli si depositano proprio all'interno del pilastro blu centrale Ora completamento struito Emerge chiaramente che c'è un cedimento di una trave Abbiamo fatto il sopralluogo insieme all'assessore Mila della Dora, insieme ai tecnici del comune Adesso oggi contatteremo qualche tecnico specializzato ovviamente perché stiamo parlando di una struttura di legno lamellare L'altra cosa che emerge è che comunque è necessario fare quanto prima una linea vita Per consentire alle persone di poter andare a pulire in alto Perché come tutti hanno potuto modo di vedere quando piove praticamente c'è una cascata Che viene giù dal tetto Quindi la prima cosa è riuscire a pulire Far sì che l'acqua possa defluire dove in qualche modo deve andare Ma dall'altra parte faremo tutte le verifiche per riuscire a mettere in sicurezza questa piazza Mi auguro che le spese non siano eccessive perché qualora siano necessarie risorse ingenti Non sarà semplice riuscire a recuperarle Ed è invece tornata ad essere percorribile la pista ciclabile di Viale della Liberazione Interrotta dal 13 di settembre in seguito al crollo di un grosso pino Collassato dopo l'ondata di maltempo che lo aveva caricato d'acqua Portandola a piegarsi e a sradicare il manto stradale Completato dunque l'intervento che torna a collegare il tratto di ciclabile compreso fra ospedale e caserma C'è stato un incidente stradale questo pomeriggio lungo la strada delle conce che collega Urbino a Fermignano Per cause da accertare una Volkswagen Up si è ribaltata sotto al viadotto della statale Il conducente ha riportato ferite lievi e nessun altro veicolo è stato coinvolto sul posto i carabinieri per i rilievi Sarebbe un grande onore per Pesaro ospitare le ceneri di Glauco Mauri nelle cimitero centrale Quanto hanno riferito il sindaco e il vice sindaco di Pesaro Andrea Biancani e Daniele Vimini All'indomani delle cerimonie che hanno permesso di salutare al Teatro Argentina di Roma il grande regista e attore pesarese Il comune rispetterà qualunque sarà la scelta della famiglia ma intanto propone di riportare Mauri nella sua città natale Con una tomba collocata tra i personaggi illustri della città fra le tombe monumentali attorno alla chiesa di San Decenzio Al parco Miralfiore di Pesaro continua a potenziarsi l'azione repressiva contro lo spaccio di droga e la prevenzione al suo consumo Va in questa direzione la pre-action di Alessandro Giardini che dopo mesi di campagna informativa si struttura in una vera organizzazione di volontariato Ha trasformato la sua esperienza di tossicodipendenza e faticosa uscita dal tunnel della droga In una campagna di prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti e contrasto allo spaccio Ora Alessandro Giardini fa un salto in avanti La sua pre-action da campagna informativa si trasforma in una struttura organizzata di volontariato Un battesimo arrivato domenica al parco Miralfiore in un luogo simbolo di questa missione E in una data cara a Giardini come quella del compleanno del nonno scomparso 35 anni fa La morte io l'ho vissuta quando sono caduto nella droga Cioè io lì ero, a parte con le radiosi che ho rischiato, ero più di là che di qua La rinascita è stata quando poi ho preso la mia vita in mano e l'ho fatta in modo di trasformarla in qualcosa di utile Cioè quello che pre-action si è ripromessa di fare Noi punteremo tanto, tanto, tanto sulla prevenzione Perché i ragazzi devono sapere, i ragazzi devono parlare di droga con chi magari ci è già passato Cioè io non sono un maestro di vita che posso andare a dire a un ragazzo come deve vivere, come deve fare la sua vita Sarei l'ultima persona di questo mondo Non sono un professionista, però sono uno che vent'anni ha combattuto con questo mostro Perché è veramente un mostro E quando tu glielo fai capire, glielo trasmetti veramente dal cuore, loro ti ascoltano Perché glielo hanno fatto parecchie testimonianze E quando hai 200 ragazzi che per un'ora e mezza, due ore non fiattano Vuol dire che l'attenzione l'hai centrata Una missione, quella di pre-action, applaudita da componenti della giunta comunale e dell'opposizione Così come da esponenti delle forze dell'ordine per una campagna di prevenzione Che mirerà in particolare ai giovani e agli istituti scolastici Anch'io ho fatto due testimonianze qui al Mirasciore Più dedicate alla lotta allo spazio Purtroppo ragazzi lo spazio ci sarà sempre, ovunque e dovunque Ovviamente ci sono le forze dell'ordine che devono vigilare, che devono contrastare Che devono cercare di fermare questo fenomeno Però bisogna arrivare prima, arrivare prima di loro C'è una lotta impari perché questi sono dei demoni Ma noi dobbiamo far sì che i ragazzi non vadano C'è, vi faccio un esempio pratico Se il ragazzo entra dal cancello qui di diecima rosa e gira a destra Va verso la morte Se gira a sinistra vuol dire che si fa una bella camminata Può essere una cosa salutare Ecco, quindi bisogna convincerli ma non prendendoli in giro Perché poi sarebbe la più brutta risposta che gli puoi dare Ma raccontando tutto te stesso The unexpected market Con questo claim la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola Si è presentata all'aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio Aprendo le principali kermesse italiane dedicate al tartufo Che quest'anno a Pergola viaggerà nel segno dello slogan Le Marche che non ti aspetti Le prime tre domeniche di ottobre, il 6, il 13 e il 20 La città degli Ori ospiterà la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato Appuntamento giunto alla 27esima edizione E dedicato agli appassionati del principe indiscusso della tavola Molte le novità dell'edizione 2024 Tra cui i treni storici della subappenina italica Che attraverseranno i territori del tartufo Raggiungendo proprio Pergola per le tre domeniche della fiera E il premio Le Marche che non ti aspetti Riconoscimento assegnato a volti noti del mondo del giornalismo Della cultura e dello sport Per il terzo anno torna a Pesaro il Festivalino dell'Ambiente Si tratta di una rassegna promossa dalla Fondazione Vanda di Ferdinando Per sensibilizzare le nuove generazioni alle conseguenze dei cambiamenti climatici Torna a Pesaro il Festivalino dell'Ambiente Rassegna organizzata per il terzo anno dalla Fondazione Vanda di Ferdinando Guidata dall'obiettivo di approfondire i temi della crisi climatica Creando uno sguardo attento al futuro e ai diritti delle prossime generazioni Un programma di passeggiate, laboratori e spettacoli teatrali Costruito in collaborazione con il Comune Le scuole dell'infanzia Il Filo Rosso e Lo Specchio Magico Le associazioni Genia, la Lupus in Fabula e Teatrino Rosso E il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro Il tema del 2024 sarà l'acqua come elemento fondamentale per la vita Quindi come risorsa limitata e preziosa necessaria per la vita, per le popolazioni, per l'economia di ogni paese Ma anche come bene condiviso, come patrimonio condiviso dell'umanità Ecco, noi richiameremo l'attenzione dei bambini ma anche delle loro famiglie Su queste tematiche che sono fondamentali Perché è importante adottare uno sguardo attento verso il futuro e verso la scarsità delle risorse Il 4 e il 5 di ottobre si svolgerà il festivalino Distribuito tra gli Ortigiuli, la Biblioteca San Giovanni e Palazzo Gradari Ma quest'anno abbiamo un'anteprima festivalino A partire infatti dal 2 di ottobre, il pomeriggio alle 5 ci sarà una passeggiata con i nonni E quindi un passaggio intergenerazionale agli Ortigiuli alle 17 Il festivalino è aperto a tutti, è gratuito ma è importante prenotarsi Quindi vi invito a consultare la nostra pagina Facebook e il nostro sito internet www.fondazionediferdinando.org Per prenotare il vostro posto In Prefettura è stato presentato oggi il progetto Accordi Accoglienza di qualità a favore dei cittadini di Paesi Terzi nella provincia di Pesaro e Urbino Progetto che vede la Prefettura capofila con la partecipazione delle associazioni L'Africa Chiama e Iscos Marche Accordi finanziati dal Fondo Asilo Immigrazione e Integrazione Ha preso formalmente l'avvio lo scorso maggio e ha una durata di 18 mesi Tra i suoi obiettivi principali il potenziamento della governance in tema di immigrazione E la promozione dell'inclusione socio-lavorativa Sabato si ritroveranno per la prima volta insieme sullo stesso palco Due icone del teatro dialettale peserese come Carlo Pagnini e Franca Mercantini L'appuntamento è per il 5 ottobre alle 18 sul palco della biosfera di Piazza del Popolo Con il fiorfior del dialetti in cui Franca Mercantini e Carlo Pagnini Porteranno sul palco il fiorfiore della produzione dialettale di entrambi Ma porteranno soprattutto loro stessi e le loro splendide vite In un appuntamento da non perdere a ingresso libero e gratuito Ed ora andiamo a scoprire un approfondimento molto particolare Dedicato alla cultura della massoneria nella provincia di Pesaro Urbino La cultura della massoneria nella provincia di Pesaro Urbino Questo è il titolo dell'evento che si terrà sabato 5 ottobre Presso l'hotel Charlie di Pesaro alle ore 10 Dove verranno raccontati i principi e valori della massoneria E si ripercorrerà la storia dei liberi muratori Dalla prima metà del Settecento fino ai giorni nostri Come anticipa Marco Rocchi, consigliere dell'Ordine del Goi Dai Moscavarsi ai rapporti con Stendale e Casanova All'era napoleonica prima e al risorgimento poi Dalla figura di Terenzo Mamiani alla rinascita del Grande Oriente d'Italia Fino ai sindaci di Urbino e Ferminiano, Budassi e Farasconi Le chiusure delle logge con l'avvento del fascismo Il maestro venerabile Gasperini Tra i fondatori del Partito Comunista Italiano al Congresso di Livorno Poi la Repubblica e la loggia Garibaldi di Pesaro Madre delle logge della provincia, della Romagna e di San Marino Fino alla loggia Casanova e alla massoneria dei giorni nostri A tutto ciò si unisce anche il Museo Massonico di Pesaro Con oltre 500 reperti nazionali ed internazionali Donati da famiglie massoniche che farà parte del circuito itinerante Anche in forma virtuale dei nove musei massonici italiani Tante le storie dunque che la cultura della massoneria pesarese Avrà da raccontare il 5 ottobre Noi abbiamo voluto cogliere proprio questa occasione Delle celebrazioni della cultura Nella ricorrenza di Pesaro 2024, capitale della cultura Proprio per contribuire alla interpretazione della cultura In tutte le sue forme E in particolare per evidenziare che la cultura massonica È diffusa nel contesto sociale e territoriale Come pure nel contesto nazionale Più di quanto non si creda In quanto i principi massonici A partire dal principio di libertà, uguaglianza, tolleranza Hanno costituito le basi su cui sono state costruite Le strutture e le istituzioni storiche Quindi noi siamo convinti che non si può parlare di cultura Tralasciando senza ricordare quella che è la cultura massonica Il contributo che la cultura massonica ha dato In quanto questa cultura è diffusa Come dicevo, pur non essendo palesemente conosciuta Ed ha contribuito allo sviluppo storico e sociale della nazione L'occasione per palesare al mondo intero Al mondo cittadino e soprattutto al mondo peserete Diciamo quelli che sono i valori della cultura massonica Quindi illustrare quelli che sono i nostri principi I valori tipici della massoneria L'occasione della comunione massonica peserete Nella fattispecie il rito simbologo italiano Le logge peseredi hanno pensato di organizzare un evento Un evento culturale presso l'hotel Charlie di Pesaro Per parlare appunto della cultura della massoneria La cultura della massoneria è una cultura che riguarda Non solo il territorio ma riguarda anche la nazione E tutta la comunità massonica internazionale E ovviamente a parlare di cultura in generale Si deve parlare anche di cultura della massoneria Al convegno parteciperanno come relatori Due personaggi importanti Il professor Marco Rocchi è consigliere dell'ordine Nonché docente universitario L'architetto Martiano Pagella Che è il presidente dell'associazione culturale Rito Simbologo Italiano Tutto moderato dall'avvocato Enzo Bacciardi Che è il presidente del collegio Pesaro E Tefano Fortuna Alla conclusione parteciperà il Marco Vignoni Che è il grande oratore del Grande Oriente d'Italia Palato Giustiniani Ad Urbino sta per partire la quindicesima edizione di Biosalus Un evento di richiamo nazionale dedicato al benessere olistico e al biologico Che si terrà nel centro storico ducale il prossimo 5 e 6 ottobre Siamo al collegio Raffaello di Urbino Di fronte all'ingresso della sala Serpieri Dove si tiene la conferenza stampa di presentazione di Biosalus Il prossimo 5 e 6 ottobre Nel centro e in tante location di Urbino L'ideatore di Biosalus è mio marito Antimo Zazzaroni E quando lo ha messo in atto nel 1995 La prima edizione non gli credevavo nessuno nemmeno in famiglia Che potesse essere una realtà Poi fin dalla prima edizione si è rivelato un successo di pubblico Molto molto forte, molto interessante La chiave del successo di Biosalus Secondo me è l'anima che ci mettiamo dentro Cioè Biosalus è un evento culturale Non è una fiera Si svolge in una piccola città che è un gioiello In un ambiente storico In ambientazioni storiche che sono gioielli Biosalus può avere senso solo in questo contesto Perché promuoviamo cultura Quale cultura? La cultura del benessere con la B maiuscola La cultura della prevenzione primaria La cultura del prendersi cura della propria salute di se stessi Ma non solo, degli altri e dell'ambiente E' questa parola imparare a prendersi cura che è la chiave di tutto Quest'anno oltre ai consueti appuntamenti che da calendario abbiamo in Piazza della Repubblica Collegio Raffaello, Borgo Mercatale, Corso Garibaldi e Piazza dell'Erbe Si aggiungono due importanti iniziative che sono sicuramente l'area Kids, Biosalus Kids Un'area totalmente dedicata al mondo green dei bambini Nel Collegio Internazionale Piazza San Filippo E quest'anno avremo ospiti anche il Distretto Nazionale delle Reti Dei Distretti Bio Che porterà i Bio in Tour Quindi avremo sempre più proposte dedicate al mondo del biologico Sempre al Collegio Raffaello Con masterclass e degustazioni di vini biologici e prodotti bio di tutto il territorio nazionale Oltre alla sezione culturale ricchissima C'è una sezione dedicata ai momenti o di svago o comunque di intrattenimento Allora partiamo magari da India Paese Ospite Che caratterizza il Biosalus 2024 E quindi per gli appassionati dell'India oppure chi vuole conoscere qualche aspetto insolito Abbiamo organizzato un concerto con sitar e tabla Quindi sitar è la chitarra classica indiana Il tabla le percussioni Poi abbiamo anche un'esibizione di danza classica indiana E quindi qui c'è tutta la sapienza e la poesia Della spiegazione anche delle movenze, della gestualità E poi una cosa un po' più mondana che si vede adesso anche in televisione Che va di moda il Bollywood Dance Quindi queste danze collettive E magari sarà possibile coinvolgere anche il pubblico Poi rimanendo sempre legati all'India Paese Ospite Ricordiamo chi vuole regalarsi un bel massaggio ayurvedico Trova la sala dei trattamenti ayurvedici E ancora conferenze comunque a tema Una chicca che abbiamo portato perché siamo alla quindicesima edizione Ma è la prima volta che affrontiamo questo argomento La pulsologia indiana Non so se la conoscete Penso sconosciuta di più E quindi imparando Comunque ascoltando il battito cardiaco nel polso radiale Racconte in maniera poetica anche qui O comunque fantasiosa Poi ognuno trae le sue conclusioni Si può ascoltare il benessere della persona Quindi ascoltare questi fiumi sotterranei di energia E capire se siamo in equilibrio o in disequilibrio Da questa città che ha dato chiaramente da dove è nato il rinascimento Oggi noi pensiamo di poter essere il luogo dove si può ridare un nuovo rinascimento Che è un modo diverso di vivere Ormai tutta Europa, tutto il mondo ne parla E vuole andare in questa direzione Noi abbiamo tutte le carte in regola per fare il capofila di questo modo E quindi Biosalus rappresenta questo E per fortuna Antimo Zazzeroni Che è l'ideatore da 18 anni fa Perché poi è stato fermo tre anni per la pandemia Però aveva pensato a questo fatto Al fatto che questa città possa essere capoluogo del benessere E chiaramente è stato un po' il pioniere Ma oggi è ancora più concreto Tutti quanti noi ci crediamo Vi aspettiamo tutti a Urbino nel Centro Storico 5-6 ottobre Tutti i dettagli su www.biosalusfestival.it Con un ricchissimo programma di eventi Trovate anche tante anticipazioni sui nostri canali social Sia Facebook che Instagram E ricordo che la manifestazione è ingresso gratuito Vi aspettiamo E concludiamo il nostro telegiornale con lo sport Perché ieri sera allo Stadio Benelli di Pesaro È arrivato il primo pareggio stagionale Per la Vis Pesaro Che ha impattato 0-0 con Ile Perugia La Vis dunque riparte dopo due sconfitte Al termine di una gara equilibrata e combattuta Che porta Pesaro a 10 punti in classifica Collocandola in zona playoff dopo sette giornate Dalla Vis alla VL Vi ricordiamo che dopo la vittoria di domenica su Nardò È previsto domani sera il primo appuntamento della stagione Alla Vitri Frigo Arena Alle 20.30 la squadra dei Sacripanti Se la vedrà contro l'Elachem Vigevano Si conclude qui questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Prima di salutarci Vi ricordiamo però alcuni appuntamenti Sulla nostra emittente A cominciare da cultura, territorio e impresa La nuova puntata di questo format che va in onda alle 21.20 La quarta puntata dedicata alle figure di Alfio Magnesi Di Deolstampa e di Roberto Lucarelli Dell'azienda Vitivinicola Lucarelli Società Agricola Appuntamento come detto alle 21.20 A seguire alle 21.40 Un nostro speciale dedicato all'Università di Urbino In particolare a Sharper Per la notte europea dei ricercatori Appuntamento come detto alle 21.40 E poi come sempre vi ricordo L'appuntamento fisso del mattino Con Buongiorno Rossini La nostra rassegna stampa dei quotidiani locali In diretta dal lunedì al sabato A partire dalle 7.20 Domani 2 ottobre a tenervi compagnia Sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi E poi vi ricordiamo l'appuntamento di ripartenza Con Insieme a Canestro Nuova stagione di basket Nuova stagione del nostro format di focus Sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Vedete qua la nostra Elisabetta Ferri Pronta a tenervi compagnia da giovedì alle 21 Insieme a una New Entry Ovvero Alessio Zaffini Che imparerete a conoscere In questo nuovo ciclo di puntate A seguito di questa stagione di serie A2 Della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Vi ricordiamo gli ospiti della prima puntata Che saranno il presidente Della Carpegna Prosciutto Basket Andrea Valli E il giornalista e opinionista Michele Zavagnini Oltre naturalmente alle possibilità Di interazione in diretta di voi telespettatori Al numero Whatsapp dedicato 370-366-7210 Vi ricordiamo ancora Insieme a Canestro A partire da questo giovedì alle ore 21 E invece tutto per questa edizione Del nostro telegiornale Rossini News Vi ringrazio per averci seguito E vi auguro un buon proseguimento di serata In compagnia dei nostri programmi